Dimostrare che nella vita non bisogna prendere nulla sul serio e che il giorno di Natale, in compagnia dei bambini, è una delle pochissime occasioni in cui gli uomini diventano completamente vivi. La vita non bisogna prendere nulla sul serio 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 Il giorno di Natale, in compagnia dei bambini, è una delle pochissime occasioni in cui gli uomini diventano completamente vivi. Grazie a tutti.